Terremoto in arrivo nell'amministrazione di Trani. Il sindaco Bottaro ha dichiarato alla stampa locale di essere pronto alle dimissioni sulla questione relativa all'ex distilleria Angelini. Un ecomostro abbandonato che da anni deturpa la costa tranese in un punto dal grande potenziale turistico e fondamentale per la rivalutazione del centro storico. A due passi dal castello Svevo infatti svetta la struttura fatiscente che sempre di più diventa un punto della vergogna nella splendida cornice della perla dell'Adriatico. Una questione su cui si è sviluppata una complicata vicenda giudiziaria che vede la società proprietaria dei suoli, la Guastamacchia, citare in giudizio Palazzo di Città con una richiesta di risarcimento che ammonta 15 milioni di euro. Secondo la società l'amministrazione non avrebbe rispettato l'accordo già stipulato con loro per la futura progettazione di quell'area. Grazie a quell'accordo e al relativo progetto elaborato dalla società il Comune di Trani avrebbe avuto accesso al finanziamento pinqua di 15 milioni di euro. L'amministrazione dal canto suo, costituita in giudizio come parte resistente tramite l'avvocato Andrea Sticchi Damiani del Foro di Lecce, ha affermato che Palazzo di Città non avrebbe rinnegato alcunché, ma più semplicemente scelto di procedere all'esproprio dell'area per pubblica utilità, riconoscendo i proprietari del suolo una somma ritenuta congrua rispetto all'importo con cui gli stessi avevano acquistato il bene all'asta fallimentare. Oggetto del contendere sarebbe la destinazione dell'area, originariamente inquadrata nel piano urbanistico generale come area destinata ad edilizia giudiziaria, in cui era prevista la realizzazione della nuova cittadella della giustizia, destinata ad accogliere i diversi uffici e tribunali sparsi in città. La volontà dell'attuale amministrazione è quella di far restare l'area standard, trasformando la cittadella giudiziaria non più realizzata in una grande villa comunale sul mare. Grande polemica sulla questione è stata sollevata dalla Lega, tramite il suo consigliere comunale Gianni Di Leo. Noi, come parte politica, scrive in una notte il capogruppo consigliare Di Leo, continuiamo ad affermare che la prospettiva di realizzazione di un nuovo palazzo di giustizia per contenere tutto il settore civile del Tribunale Litrani sia l'unica ipotesi possibile. Il progetto, a suo tempo presentato, prevedeva la realizzazione di volumetrie per uffici pubblici giudiziari su Via Rumito ed un giardino pubblico sul mare, ceduto gratuitamente e perfettamente sovrapponibile a quello che oggi si intende realizzare, ma ottenendo l'area a mezzo di una procedura espropriativa. Il consigliere Di Leo ha poi richiesto un'analisi giuridica resa da parte del professionista incaricato, l'avvocato Andrea Sticchi Damiani, a mezzo di un apposito parere legale, che possa dare adeguato conforto giuridico al Consiglio Comunale in quanto massima assise cittadina prima di prendere decisioni che potrebbero condurre ad un enorme danno per le casse comunali.